Musica Buongiorno, bentrovati a TG2 Italia. Allora, siete pronti per trascorrere quest'ora insieme? Spero di sì, perché anche oggi vi vogliamo dare delle notizie anche buone per quanto riguarda il nostro ambiente, l'importanza del verde. Pensate che proprio il verde è aumentato nelle nostre città e questo è un polmone proprio di aria più pura. Perché a volte quando si parla di ambiente pensiamo, vabbè, insomma, a noi che ci importa? No, perché noi parliamo dell'aria che respiriamo. Quindi ambiente, la risorsa del verde, il verde è davvero una grande risorsa, un grande polmone. Per la nostra vita. Poi vogliamo parlare di quegli animali che non sono così conosciuti. Non so, andremo a trovare un allevamento di alpaca. Quindi difendere gli animali, la biodiversità in qualche modo, ma anche poi che possa diventare una fonte di guadagno. Quindi è questo l'argomento di cui vogliamo parlare nella seconda parte. Allora, partiamo subito però con l'ambiente, come vi ho detto, perché sia il nostro Presidente del Consiglio Draghi, il Papa, ma tutte le potenze occidentali si sono unite proprio per la difesa di quello che ci circonda, cioè il cosiddetto ambiente. Quindi l'aria che respiriamo funziona, non funziona? Allora, intanto io vado a salutare il nostro Stefano Raimondi, responsabile area protetta e legambiente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere qui. Quando si parla di questi argomenti, legambiente è sempre presente. Noi siamo molto contenti, grazie davvero. Grazie a voi. Sono felice di avere il tenente colonnello Silvia Biondini, buongiorno. Se non sbaglio lei torna a Tg2 Italia? No. No, è la prima volta. Bene, quindi è un battesimo. Centro Nazionale per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano, Arezzo. Quindi siamo in Toscana, ma ovviamente lei parla poi per le iniziative di tutta Italia, dei progetti incredibili che avete fatto con appunto i Carabinieri e la forestale. E poi vado a salutare Alessandro Miani, perché lui è Presidente della Società Italiana Medicina Ambientale. Chi meglio di lei, Professor Miani? Buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ecco, allora se siete d'accordo, io manderei insieme, e ce lo ascoltiamo anche in nostro pubblico a casa, questa scheda, perché cerchiamo di capire di che cosa si tratta e poi ne parliamo. Vediamo un po'. Il nostro paese è sempre più coperto di foreste. Si stima che nell'ultimo secolo la superficie boschiva sia passata dal 12 al 36% del territorio. L'inventario nazionale delle foreste, realizzato dall'Arma dei Carabinieri e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, con un lavoro durato diversi anni, ha rivelato come nell'ultimo decennio la superficie boschiva italiana sia aumentata del 18,4%. Nel nostro paese, boschi e foreste superano oggi gli 11 milioni di ettari, pari ad oltre un terzo del territorio nazionale. In Europa i boschi coprono 182 milioni di ettari, il 43% della superficie territoriale della UE. Per quanto riguarda le città italiane, spesso assediate da smog e polveri sottili, una classifica rilasciata da lega ambiente rivela come sia cuneo quella con il maggior numero di alberi per abitante, seguita da Modena, Brescia e Reggio Emilia. Quest'aumento delle aree boschive, se da un lato è sicuramente un fatto positivo, basti pensare che esso produce un calo di 290 milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera ogni anno, dall'altro fa comprendere come le aree collinarie e montagnose si stiano progressivamente spopolando e che i boschi, non regolati e curati come in passato, stanno ormai crescendo in maniera disordinata e non armonica. Foreste non gestite presentano non solo un rischio maggiore di incendi e di sesto idrogeologico, ma sono anche una preziosa risorsa non sfruttata. Che belle queste immagini! Allora io volevo andare da Silvia Biondini, tenente colonnello abbiamo detto, quello che diceva appunto nella scheda, si diceva nella scheda che effettivamente il verde sta aumentando, retorna questo perché voi avete fatto un studio molto attento per dieci anni se non sbaglio, no? Esatto, l'inventario forestale nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio è un'indagine che serve proprio a verificare la consistenza e lo stato di salute delle foreste, si fa ogni dieci anni e quindi i risultati che stanno uscendo adesso sono il risultato di molti anni di monitoraggio, quindi monitoraggio fisicamente in foresta con le squadre a misurare gli alberi, a misurare la massa degli alberi, il loro stato di salute e quindi questi risultati sono veramente incoraggianti perché sappiamo adesso che in dieci anni la superficie delle foreste in Italia è aumentata di 587 mila ettari che è una superficie come quella della Liguria più o meno, quindi è un grande aumento e non solo è aumentata la superficie ma è aumentata la biomassa, quindi la massa vivente delle foreste, quindi sono foreste vive che è aumentata del 18% addirittura la biomassa. Di questo sai mentre lei parlava, Biondini stavo pensando a questi incendi che assistiamo in estate, veramente è un massacro, perché invece ecco poi c'è tanta fatica dietro alla ripopolazione di alberi, poi vediamo c'è anche una bellissima iniziativa, un albero per il futuro, legambiente di questo sarà soddisfatta o no? Sì, i dati sono sicuramente positivi, anche perché sottolineano un aspetto sicuramente importantissimo, il fatto che le foreste nel nostro pianeta tutelano circa l'80% della biodiversità a livello mondiale, oltre a fornire tutta una serie di altri servizi, chiaramente quello di contenimento delle emissioni di clima alteranti, soprattutto perché sono proprio dei veri e propri stocchi di carbonio, quindi aiutano moltissimo contro l'effetto serra, danno un grosso contributo anche ad altri servizi ecosistemici, ovviamente forniscono cibo e nutrimento per quasi un miliardo e 800 milioni di persone a livello mondiale in maniera diretta, e poi soprattutto tutelano anche il territorio da dissessi idrogeologici, non dimentichiamo anche la funzione ricreativa, anche nelle nostre città che hanno le foreste in ambito urbano e di decoro urbano, per cui ci sono tantissimi aspetti positivi e questi dati sono sicuramente incoraggianti. Diciamo che oltre che essere bello, quando vediamo nelle città queste macchie verdi, quindi ci danno subito una sensazione di benessere, evidentemente lo sono proprio praticamente. Professor Miani, è così, no? L'aria che respiriamo, grazie appunto a questi polmoni verdi, sicuramente ci aiuta, ci aiutano. Beh certo, senza nessun dubbio, consideriamo che le piante sia per la parte aerea, quindi rami e foglie, ma anche per quella radicale, sono dei filtri naturali nei confronti di tantissimi inquinanti, quelli dispersi nell'aria, dalle polveri sottili a composti organici volatili, ma a livello radicale sono in grado anche di metabolizzare metalli pesanti, che magari ricadono solo dall'aria, oppure sono prodotti proprio più vicino al suolo, dal transito del traffico veicolare nelle città. E quindi un plauso importante innanzitutto al grande lavoro che fanno i carabinieri della forestale e anche all'attenzione che ha Lega Ambiente su questi temi assolutamente fondamentali. Il verde, poi se lo consideriamo come verde urbano, ha altri ulteriori vantaggi, come diceva prima il collega di Lega Ambiente, anche degli aspetti sociali, di inclusione sociale, facilita lo sport, facilita gli incontri, ma se questo verde è vicino o fa parte di quartieri costruiti magari nei principi della bioarchitettura o anche con una disponibilità di spazi verdi per chi abita un certo quartiere, riduce i tassi di criminalità, migliora la facilità di relazioni e quindi stando a studi americani ci porta ad avere un'aspettativa di vita e di lavoro migliore. Senta, professor Mianni, lei però in questo elenco che ha fatto, che non fa una piega, aggiungerei, magari poi con lei e anche con gli altri ospiti volevo un pochino andare più all'interno di quello che lei ha appena detto. Per esempio parlava proprio della riqualificazione degli ambienti, dei quartieri, cittadini, proprio che prevedono una zona verde, è d'obbligo questo, quindi insomma cerchiamo di andare verso anche le direttive europee perché l'Italia in questo ancora ha un po' da fare. Proprio su questo andiamo a Milano dove c'è pronto il nostro Stefano Fumagalli, a Giardini Montanelli se non sbaglio lui si trova. Buongiorno Stefano, ci sono delle iniziative, ecco lo vedete, buongiorno Stefano, dove ti trovi? Buongiorno, buongiorno a voi. Mi trovo proprio ai Giardini Montanelli, in zona Porta Venezia, qui a Milano dove ci sono diverse iniziative da ieri, continuano anche oggi, conferenze, incontri qui al Museo di Storia Naturale che è qui davanti a noi, ma soprattutto c'è questo bel villaggio della biodiversità che è stato organizzato con diversi stand e che ci può spiegare una volontaria che si sta impegnando qui con tanti ragazzi, si chiama Alice Lenzi, insomma una bella iniziativa, Alice di che si tratta? Buongiorno a tutti, qui siamo a Milano per i due o tre giorni che precedono la Precop 26 e sono giorni dedicati ai ragazzi e a una sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente e del clima. Qui il raggruppamento per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri ha organizzato alcuni stand per raccontare ai giovani delle loro attività di cui si occupano all'interno di ogni riserva statale. E quindi insomma vedono diverse cose perché questo è un percorso, qui ne vediamo solo alcuni ma poi prosegue per tutto il parco, per esempio che cosa? Qui troviamo gli stand proprio dedicati alle specie, alle attività nelle riserve naturali come ad esempio lo stand sugli insetti, qui dietro abbiamo il progetto Un albero per il futuro che riguarda le scuole e più avanti abbiamo invece alcuni stand organizzati dalla CITES e dal gruppo dei cinofili. Quindi insomma tante tante iniziative. Ricordiamo proprio che Milano, quest'anima green di cui parlavate, la sta un po' sviluppando progetti come il notissimo bosco verticale, la congestion charge che funziona all'area C per evitare l'inquinamento proprio nel centro della città. Nel 2019 non si è consumato nuovo suolo in città e si punta a tre milioni di alberi in più entro il 2030, quindi davvero tante cose si stanno facendo qui in città e chiedo a voi che state proprio con i ragazzi, li vediamo qui alle nostre spalle ma proseguiranno per tutta la giornata. C'è questa sensibilità, cioè voi la riconoscete nei ragazzi che vengono e chiedono informazioni e cercano di capire di più? Dunque noi facciamo parte di un progetto live FESC 360 e collaboriamo con i carabinieri per la biodiversità, insieme anche agli altri partner CREA e DREAM e lavoriamo con i ragazzi, è anche una delle nostre attività, quindi è importante sensibilizzare. I giovani sono interessantissimi in realtà a questi temi ed è bene approfondire la questione, questi eventi sono sicuramente fondamentali, noi siamo tutti contenti di essere qui anche perché siamo noi stessi ragazzi, quindi abbiamo la possibilità di partecipare a questo progetto e speriamo anche di invogliare gli altri a fare lo stesso. Assolutamente, allora noi restiamo qui in questo bel parco con tanti ragazzi, parleremo con loro, se non ci sono domande da studio, a te. Ma io direi che magari se riusciamo ci vediamo dopo Stefano perché avete tante cose da raccontare, grazie intanto di aver fatto parlare così giovani perché sono fondamentali. Qui in questa immagine stiamo vedendo appunto la Milano verticale come vedete, allora poi dopo questa è una provocazione che faccio a Legambiente, la Milano orizzontale come sta messa, perché anche questo adesso arrivo da lei. Perché? Perché abbiamo sentito attraverso i giovani e qui mi riferisco a Silvia Biondini per quanto riguarda questa iniziativa Un albero per il futuro. Già mi piace il titolo, già mi piace questo slogan, di che si tratta? Allora Un albero per il futuro è un progetto per le scuole, dei carabinieri della biodiversità in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e consiste semplicemente nel regalare degli alberi alle scuole partecipanti. I carabinieri della biodiversità andranno a mettere a dimora queste piante nei cortili delle scuole in tutta Italia, nelle città, insieme con gli studenti che poi se ne dovranno prendere cura. Ogni pianta è georeferenziata in modo che se si va sul sito del progetto che è www.unalberoperilfuturo.rgpbio.it si può vedere giorno per giorno quante piante sono state piantate, da quali scuole, in quali posti d'Italia con una cartina e quanta nitride carbonica viene assorbita con questo progetto. Che bello, tra l'altro lo stiamo vedendo anche quello che sta dicendo lei e io trovo che sia un'iniziativa molto molto bella, anche il sito abbiamo visto, ecco lo stiamo vedendo che scorre mentre appunto la nostra tenente colonnello sta parlando. Qua volevo fare riferimento a Stefano Remondi perché gli ho fatto questa piccola provocazione dicendo, prendiamo come esempio Milano perché effettivamente è un po' locomotiva di queste iniziative, quindi delle città green non soltanto, perché voglio ricordare che a volte noi ci chiediamo anche in redazione quando facciamo le nostre riunioni, cerchiamo di non essere fumosi, cioè nel senso di dire cose che poi non hanno a che fare con i cittadini, con tutti noi e il nostro pubblico. In questo caso magari parlare di ambiente significa proprio l'aria che respiriamo, è vero Lega Ambiente, lo chiedo a lei che insomma sono sicura che mi appoggerà su questa. Sì è così, Milano è un esempio di una città in qualche modo avanguardista da questo punto di vista, l'esempio del Bosco Verticale è proprio un esempio di come il verde in ambito urbano può essere utilizzato in maniera veramente poliedica e multifunzionale, molto spesso il verde può essere utilizzato e quello ne è un esempio proprio molto caratteristico per realizzare o proseguire l'opera architettonica, un po' come si faceva con i giardini all'italiana qualche secolo fa. In quel tipo di giardini l'opera architettonica si realizzava proprio attraverso l'essenza vegetale, il concetto è stato mutuato in questo caso da questa nuova architettura, questa nuova bioarchitettura che però ha anche un altro significato, quello di intervenire su una funzione fondamentale che hanno gli alberi in città, che è quella di intervenire sul microclima delle città stesse. Esatto, perché la mia domanda era questa, è vero, vediamo l'immagine della famosa Milano verticale, però non ci dobbiamo dimenticare quella orizzontale, intendo dire proprio il terreno, il territorio, quindi anche lì ci deve essere del verde, non deve essere dimenticato e abbandonato, giusto? Esattamente così, il verde orizzontale come appunto l'ha definito giustamente è fondamentale per mantenere il microclima delle città e diminuire quello che viene chiamato l'effetto isola di calore, dovuto alla diffusione del caldo sul cemento e sulle superfici inerti. Praticamente grazie a questo effetto, in qualche modo clima regolante che hanno gli alberi in città, si può anche arrivare ad una diminuzione del 25-50% delle spese energetiche per quanto riguarda il condizionamento degli appartamenti, per esempio. Però, insomma, grandi cose. Prima di tornare dal professor Miani, che è presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Andiamo a vedere questo servizio di Antonello Marzio, proprio sul nuovo Bosco Verticale. Andiamo a vedere. Al centro la corte e il verde pubblico, tutto intorno eleganti appartamenti a gradoni, ricoperti di vegetazione che favorirà il risparmio energetico, dotati di orto o giardino, con spazi comuni e palestre. In linea con la tradizione dell'antica corte lombarda come luogo di contatto tra vicini, il Bosco Navigli è la riqualificazione di via San Cristoforo tra la zona di via Tortona e Porta Genova e rientra nel progetto metropolitano che tiene conto delle risorse naturali a partire dalle vie d'acqua. In questo caso siamo affacciati sui navigli che a sua volta collegano Milano con il Ticino e con il Lago Maggiore con una serie di percorsi pedonali ciclabili. Quindi l'idea di costruire dei corridoi biologici che entrano nella città è la sfida dei prossimi anni. 8.000 metri quadri, l'area dell'edificio, altezza massima 11 piani, le facciate sono totalmente ricoperte dalle piante. Sono impianti che permettono e garantiscono un'alta sostenibilità, dai nostri parametri siamo all'interno di spese non eccessivamente alte. Il sistema vegetativo del Bosco Navigli è pensato soprattutto per filtrare le microparticelle di polveri soltili. A parere del costruttore si riduce il consumo energetico grazie all'inerzia termica della vegetazione che protegge dai raggi solari. Professor Miani, abbiamo visto un esempio di cui lei parlava evidentemente della bioarchitettura, l'importanza del verde. Dicevamo prima, poi ovviamente commenteremo anche in studio per quanto riguarda l'aumento del verde, magari è più delle foreste che non proprio in città. Però ci sono delle iniziative come queste di riqualificare anche i quartieri, i cittadini con delle aree verdi che saranno messe proprio nella progettazione. È così, professore? Certo, queste sono iniziative importanti, magari poi alla fine per pochi, per via magari dei costi degli appartamenti, però sicuramente belle estetiche e anche funzionali per la città. Però nella città ci sono giardini, aiuole, spazi pubblici e privati, ma anche i nostri stessi terrazzi e balconi che possono in un certo senso, se ben attrezzati con delle barriere verdi, con delle essenze, poi ce ne sono alcune che più di altre sono in grado di captare questi inquinanti atmosferici, agire in sinergia anche con queste più grandi opere che riguardano la città. Se posso aggiungere una cosa, noi come esseri umani abbiamo un'attrazione innate naturale verso il verde e le forme naturali, si chiama biofilia e un altro esempio della città di Milano è il nuovo ospedale policlinico in cui sempre lo stesso architetto Boeri che ne sta curando il progetto, ha previsto che tutte le camere di degenza affaccino su un grande giardino pensile in cui ci saranno diverse attività ma moltissime essenze verdi. Questo che vantaggi dà? Secondo la scienza, se un degente in un ospedale affaccia con la sua vista e la sua finestra su del verde, ben curato, si può avere una riduzione del 10% del tempo appunto di degenza con tutto ciò che questo dispositivo può portare. Comporta, certo. A proposito dell'inventario, dottoressa Silvia Biondini, la domanda, se può rispondermi, perché voi appunto sono dieci anni che state facendo questo monitoraggio in tutta Italia, volevo capire se effettivamente nelle città c'è più verde o si tratta soltanto di presenza di aumento di foreste oppure come dicevano nella scheda iniziale magari ci sono quelle zone che sono rimaste incolte in qualche modo perché viviamo tutti in città e quindi lì la natura si fa spazio, si prende il proprio spazio. Sì, l'inventario ha riguardato le foreste italiane e quei punti sono stati campionati dei punti che ai sensi della normativa nazionale sono considerati bosco, quindi vi rientrano in realtà anche degli spazi intorno alle città che si stanno rinaturalizzando a seguito dell'abbandono del pascolo, dell'abbandono di certi territori. Non si arriva naturalmente dentro le città dove il verde è verde urbano, però si arriva probabilmente anche in delle zone dove non è immediatamente riconoscibile il bosco, però anche quello è considerato bosco ai sensi di legge, anche quello viene valutato ai sensi della consistenza del patrimonio forestale. A proposito di, lei ha parlato di boschi diciamo urbani se vogliamo, andiamo a vedere questo servizio di Gnoni che si trova a Lecce, andiamo a vedere di che si tratta, vediamo insieme. Un'oasi naturalistica di rara bellezza a meno di due chilometri dal centro storico di Lecce e la foresta urbana di nuovo aperta e visitabile su prenotazione, un tempo a cava di estrazione della pietra Leccese, poi di scarica abbandonata, è stata bonificata dai volontari del WWF Salentino che dal 2014 la gestiscono con passione e dedizione. Questo è un posto magico, molto legato alla storia del territorio, il cosiddetto passaggio del terzo luogo, dei non luoghi, che però racchiude testimonianze, storie di natura e di pietre eccezionale e che merita di essere valorizzato e amato dai cittadini eccesi. Un'area privata di grande valore naturalistico dove crescono corbezzo di querce spinose, macchia mediterranea, alberi e piante di ogni tipo, non solo vegetazione spontanea però. All'ingresso uno splendido acanto con le sue grandi foglie che hanno ispirato i primi freggi corinzi dei capitelli e delle costruzioni barocchie, poi dopo un lungo sentiero il giardino ribattezzato dei semplici, con piante medicinali ed aromatiche e nel cuore del parco l'interessante frutteto dove è possibile imbattersi in giuggioli, gelsi, melograni, azzeruoli e tanto altro. Un grande polmone verde spesso frequentato da famiglie scolaresche, una foresta urbana affascinante e rigenerante dove vivono ricci, volpi, tassi ma anche rapaci non sempre facilmente visibili come barbagianni, civette, gheppi e poi tanti uccelli, taccole, tortore, cardellini ed in autunno petti rossi, fringuelli, tordi. Un paradiso di biodiversità, ancora tutto da scoprire. Immaginiamo un parco aperto a tutti, goduto in maniera sostenibile e soprattutto quello di offrire a noi stessi cittadini ma anche ai turisti un luogo magico diverso dagli altri più vicino alla storia e alla cultura salentina. Che meraviglia, Legambiente sarà felicissima di questo, però volevo capire sempre dalle Legambiente che anche voi monitorate da sempre le aree verdi e non soltanto se effettivamente magari il sud, visto qui eravamo a Lecce, abbiamo visto questa foresta urbana incredibilmente bella, è avvantaggiata nei confronti del nord oppure no? Che cosa vi risulta? Le città sono effettivamente attente alle aree verdi? C'è un quadro molto eterogeneo da questo punto di vista. Noi elaboriamo ogni anno il rapporto ecosistema urbano in cui mettiamo in evidenza la vivibilità delle città. Emerge come l'elemento del verde urbano e sia un elemento fondamentale per aumentare la vivibilità dei nostri capologhi di provincia. Normalmente le città che si trovano in cima a questa classifica hanno quasi sempre una qualità del verde molto elevata. Abbiamo Cuneo che presenta più di 200 alberi ogni 100 abitanti. Anche se Cuneo non è poi la prima città in base all'ultimo rapporto che è Trento, però in realtà Cuneo è comunque messa molto bene e altre città si difendono molto bene. Anche Modena ha circa 100... Ecco, infatti mi scusi Raimondi, però appunto il nostro pubblico a casa in questo momento sta vedendo esattamente questo cartello. Numero di alberi per abitanti nelle città italiane. È bella questa cosa. Come diceva lei, ovviamente Cuneo 203, Modena, Brescia, Reggio Emilia, Rezzo, Ravenna, Milano, Cosenza, Pesaro, Pordenone. Però chiedo scusa, ma qua vedo solo Cosenza al sud. Tutto nord qua. Sì, c'è anche forse una maggiore tradizione con l'attenzione ai temi sicuramente ambientali che normalmente nelle città del nord è sempre stato maggiormente preponderante come tema. Quindi il sud ha ancora da lavorare da questo punto di vista. Ma la cosa che mi preme sottolineare è non soltanto la quantità di verde. È importante anche parlare di qualità del verde nelle nostre città. Perché molto spesso noi abbiamo a che fare con una gestione del verde che viene spesso lasciata all'improvvisazione purtroppo. Quindi persone non esperto che con capitozzature o interventi errati di taglio di potatura mettono a ripentaglio le piante stesse che quindi diventano anche un problema perché possono diventare anche pericolose. Infatti vediamo a volte potature così senza senso, magari in periodi strani, fanno delle potature anche un po' anomale e poi magari cerchiamo di capire cosa stia succedendo al nostro verde, alle nostre città. A proposito di città, torniamo a Milano, andiamo da Stefano Fumagalli. Stefano, veramente un minuto con te perché volevo capire allora quali sono le iniziative di questi giorni quando chiude questo bellissimo progetto che è stato fatto insieme al Ministero della Transizione Ecologica. Allora sì, questo progetto, come vi dicevamo, sono nove stand che resteranno per tutta la giornata di oggi qui nel Parco Montanelli a Milano. Noi ci siamo avvicinati a uno di questi, con me c'è ancora Alice che ci può spiegare. Per esempio, i ragazzi che vengono qui, che cosa trovano in questo specifico stand? Qui ci troviamo allo stand biodiversità dedicato agli insetti. Moltissime specie presenti nella direttiva Habitat, qui si possono osservare, sono animali spesso carismatici, abbastanza grandi, qui abbiamo soprattutto quale otteri legati al legno morto, di cui i carabinieri per la biodiversità si occupano durante il loro monitoraggio all'interno delle riserve. Quindi si scopre appunto la differenza tra insetti e insetti, ci sono insetti necessari proprio alla natura, per esempio questi, e i ragazzi immagino siano curiosissimi. Certo, anche perché poi in realtà ogni insetto, ogni essere vivente è necessario e spesso non si pensa. Uno magari è portato ad andare a vedere gli stand con l'animale più grande, più appariscente, quando in realtà si parte qui dal più piccolo e si sensibilizza chiaramente anche in vista di tutta l'area tetrofica e gli ecosistemi. Grazie Alice Lenzi che è una volontaria qui, allora da Milano, a te Marzia. Grazie Stefano Fumagalli anche di questa boccata di ossigeno che ci siamo presi. Allora io ringrazio ovviamente Stefano Fumagalli e il professore Alessandro Miani di essere stato con noi. Grazie davvero, spero di tornare, ma sicuramente torneremo su questi argomenti perché sono troppo importanti proprio per l'aria che respiriamo. Ringrazio la tenente colonnello Silvia Biondini di essere stata qui con noi. Grazie a voi. E ovviamente legambiente Stefano Raimondi. Grazie a voi. Grazie davvero. Allora rimanete con noi ovviamente. Professor Miani, l'ho salutato professor Miani, giusto? Io ho visto, però le devo fare una domanda, io ho visto dei vasetti prima che non mi sono sfuggiti, che anche quelli che contenevano delle piantine proprio lì a Milano all'interno di questi stand, sono anche quelli ecologici, giusto, che rispettano l'ambiente? Beh, ci sono dei contenitori, per esempio in l'olla di riso, che sono assolutamente ecologici, meglio puntare su materie possibilmente non plastiche e così andiamo a inquinare di meno anche o perlomeno, se non essere plastiche, usiamo plastiche riciclate. Professore, grazie, l'aspetto presto qui a Tg2 Italia, così come i nostri ospiti che sono stati qua, Lega Ambiente e anche la forestale dei Carabinieri di Pieve di Stefano di Arezzo. Grazie di essere stati con noi.